Non c'è solo profitto per l'azienda, ma c'è anche un impegno sociale, solidario. Sì, è una grande responsabilità sociale d'impresa. Devo dire che siamo tutti chiamati come imprenditori a fare la nostra piccola parte, che poi nell'insieme può dare un grande contributo, in tema di sostenibilità e attività in ambito sociale. Ognuno deve dare la propria definizione di responsabilità sociale, capire quali sono i propri stakeholder di riferimento, non avere fretta di fare tutto e subito, ma con un progetto a piccoli passi andando verso quelle che sono le tematiche di grande responsabilità verso il nostro pianeta, verso le persone, verso quello che attraverso alcune efficienze fatte nelle nostre aziende si possa contribuire a un miglioramento del pianeta, soprattutto per le generazioni future. Confindustria non è nuova a queste tematiche, già da anni li stiamo approfondendo. Il progetto VHP ne è un lampante esempio, però vogliamo insegnare o dare degli stimoli nuovi a tutte le piccole e medie imprese che fanno parte del nostro territorio su queste tematiche per noi molto rilevanti. Speriamo un giorno di avere un bilancio magari aggregato o comunque poter tutti insieme fare dei bei progetti in ambito di sostenibilità ambientale, questo a garanzia di un futuro migliore per la generazione. Grazie. 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 Grazie.